questa è la culla del rinascimento un conte ci sta benissimo diciamo anche a firenze che abbiamo fatto la lotta fra i fiorentini questa è la culla no questa è la culla questa è la culla questa è la cullina non sarà più cullona allora conte cosa fa stasera la moda questo questo universo della moda tu sei un disgiochi ma ti piace sono nato disgiochi ma sono anche nato a londra dove tante mode sono nati diciamo negli anni lì poi per qualche strano mattino motivo mi hanno scelto come il critico di moda maschile ha detto fatto in rai 2 e quindi il mio compito di vestire le persone in un modo idoneo un po più elegante prima mi piace il classico mi piace se poi posso dire via casa avete un dubbio qui li davanti al vostro armadio avete qualche dubbio nero non puoi sbagliare gente questa sera as divertìmono aspetti si spesi si sta bova la